Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi non è il lollo in to the wild ma è il lollo in San Donato perché come vedete, è bellissimo sto posto ragazzi, mi è capitato di venirci qua altre volte per fare delle registrazioni per lavoro ma mai ero venuto in questa zona qua perché esiste, esiste questo posto ragazzi, questo posto esiste veramente e là dietro c'è la zona, la famosa zona di San Francesco, quindi come fanno i veri giornalisti, quelli che vanno in giro a sondare i posti reali questa volta il vostro amico Lollo, non è vero, sono venuto qua per un'altra cosa che dopo vi spiego, va nei posti reali a vedere che esistono allora, considerazione sul posto, il posto vi stavo dicendo, il posto è una figata ragazzi, adesso non so se lo faccio vedere raga cioè il posto è veramente bellissimo, cioè raga il posto è super mega moderno, bello, bellissimo ragazzi il posto mi sta piacendo un sacco, mi sono messo qua sotto perché c'era un pochino di ombra perché sennò poi dopo non vedete una mazza con il riflesso e contento ragazzi, insomma contento, contento per quello che è lo stadio, quello che sarà il posto ho visto che là dietro c'è Santa Giulia, stanno facendo anche dei lavori anche lì nella zona di Santa Giulia quindi raga insomma dai bene, bene bene, il posto c'è, reale, concreto, quindi andiamo avanti allora, un po' di questioni da affrontare oggi, parto con qualche risposta a Carlo Pellegatti perché ovviamente sempre massimo rispetto per Carlo, minchino di fronte alla quantità di milanismo per Carlo nel venire qua stavo ascoltando insomma le parole di Carlo nel video che ha fatto uscire questa mattina e ci sono due o tre cose che mi hanno incuriosito, volevo fare il gancio a lui, poi arrivo a parlarvi anche io delle mie cose primo gancio riguardo a Carlo, a fine video dice una cosa, fa una domanda e dice ma secondo voi, se ci fosse stato ancora oggi il presidente Berlusconi che tipo di scelta avrebbe fatto in ottica di allenatore? allora, e dice ovviamente, tralasciando se poi il Milan dovesse veramente cambiare allenatore stiamo facendo semplicemente un gioco tra di noi e quando fa questa domanda, ovviamente dice, non nominatemi soliti Conte, Motta, eccetera lui dice, ditemi un nome che potrebbe, poteva essere ecco, nelle corde del presidente Berlusconi come al solito per cambiare, sparigliare un po' le carte e non so, il primo nome che mi è venuto in mente ragazzi è De Zerbi ad alcuni piace, ad alcuni non piace non si può non dire che De Zerbi abbia comunque molta personalità molta capacità tattica tutte le squadre che giocano, che hanno giocato con De Zerbi soprattutto le squadre inglesi, eccetera, eccetera hanno dichiarato tutti gli avversari hanno sempre dichiarato che giocare contro, tatticamente giocare contro De Zerbi è sempre, insomma, una cosa, una cosa difficile quindi, boh, così quando Carlo ha fatto questa domanda e ha detto, secondo voi ci fosse oggi il presidente Berlusconi sapete che ovviamente il presidente Berlusconi non un presidente di quelli che prendeva delle decisioni facili no, ce l'abbiamo visto con Sacchi, l'abbiamo visto con Capello e quindi quando ha fatto quella domanda lì non vi nego che il primo allenatore che mi è venuto in mente è proprio De Zerbi se no chi? boh, un allenatore di rottura? non lo so, vabbè, comunque quello poi, seconda risposta a Carlo Pellegatti a un certo punto Carlo fa tutto un discorso riguardo al Real Madrid e dice, Carlo dice una roba tipo eh, ma così non vale perché? Perché il Real Madrid si è preso Hendrik il Real Madrid si è preso Mbappé il Real Madrid avrà, l'anno prossimo avrà, ragazzi una formazione una formazione allucinante, ragazzi l'anno prossimo il Real Madrid avrà una formazione allucinante e giustamente Carlo che cosa dice? eh, ma così non vale, dice lui come può un Milan come può un Milan che economicamente non si può permettere quello che si può permettere la Madrid come fa a competere? Carlo io credo che la risposta sia sotto gli occhi di tutti qua a San Donato anche qua ah, che gancio tra l'altro incredibile anche qua a San Donato c'è la risposta, ragazzi ed è sotto gli occhi di tutti ed è la competenza dove tu non puoi arrivare con i soldi cioè quindi è troppo facile magari potessimo farlo attenzione alla mia è una rosicata eh non è che sto dicendo che il Real Madrid fa male a comprare a comprare Hendrik può comprare altri giocatori quindi la mia parliamoci chiaro la mia è una rosica pesato stessero suonando a me la mia è una rosicata devi arrivarci dove non ci puoi arrivare con i soldi e devi arrivarci con la competenza ragazzi dove non puoi arrivarci con i soldi devi arrivarci con la competenza e sotto gli occhi di tutti abbiamo la competenza di determinati acquisti che sono stati fatti da Moncada da Dottavio dalla società quest'anno che sono stati degli acquisti intelligentissimi ovviamente mi viene in mente TJ mi viene in mente TJ per te stai cercando l'angolo senza luce TJ Renders ragazzi perché comunque TJ è uno di quei di quei giocatori che noi siamo andati a prendere l'abbiamo pagato relativamente poco in realtà ragazzi sta dimostrando di essere un super mega acquisto TJ Renders tra l'altro aperta parentesi nazionale ha pure segnato in nazionale e ha dimostrato l'allenatore dell'Olanda ha detto che oramai il gioco dell'Olanda è diventato imprescindibile dalla presenza di dalla presenza di TJ quindi la risposta che io do a Carlo Carlo io condivido pienamente quello che tu dicevi stamattina che noi economicamente non possiamo più competere con il Real Madrid per adesso la risposta ce l'hai qua vicino dietro quelle case lì adesso ci arriviamo quindi economicamente non possiamo più competere contro il Real Madrid economicamente però possiamo competere con le competenze e le competenze che noi abbiamo che sicuramente avrà avrà anche il Real Madrid non lo metto in dubbio però le nostre competenze negli ultimi anni ci hanno portato giocatori a dei prezzi relativamente bassi con alta diciamo competitività in quel che è il campo quindi insomma la mia risposta la mia risposta è questa per concludere il discorso oggi non possiamo competere economicamente ma un domani là dietro là dietro là nella zona San Francesco qua di San Donato domani dietro là si potrà insomma guadagnare tanti piccioli poi da poter mettere sul mercato tra l'altro oggi pensavo facesse più caldo invece fa un freddo becco quindi mi chiudo vabbè e quindi questo era il discorso il discorso riguardo riguardo appunto insomma tutto il discorso era il Madrid Carlo Pelle Gatti veniamo all'ultimo discorso ragazzi l'ultimo discorso che volevo fare riguarda perché 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 San Culino siamo a San Donato siamo a San Donato vicino a San Francesco e preghiamo San Culino San Culino perché 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 Kier perché 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 io devo impazzire ragazzi perché allora ieri nella nella partita nelle partite delle nazionali purtroppo ai noi se è fatto male il nostro indovina Kier quindi Simon Kier se è fatto male tra l'altro non è stato l'unico perché nella stessa partita se non ricordo male se è fatto male anche Sommer portiere portiere dell'Inter tra l'altro un problema alla caviglia vabbè chi se ne frega cioè nel senso pensiamo ai nostri e se è fatto male Kier e voi direte eh lollo abbiamo 55 difensori centrali visto che siamo andati in emergenza già una volta quest'anno ne abbiamo 55 come ci racconti sempre non sarà mica un problema perdere Kier e invece è un problema ragazzi perché partita contro la Rioma andiamo a parlare nella partita contro la Rioma Ficai Otomori non ce l'hai perché è squalificato Pier Calulu Pier Calulu si è fatto male quindi non ce l'hai a disposizione Kier non ce l'hai perché si è fatto male ieri sera non so quanto tempo ci vorrà ma giochiamo tra l'undici 10 o l'undici giochiamo contro la Rioma quindi ti rimane Gabbia e ti rimane Ciao questi sono i nostri difensori perché Simic non ce l'hai Simic torniamo sempre lì il discorso che vi ho fatto a ottobre ragazzi Simic non ce l'hai perché non è inserito nelle liste perché non può essere inserito nelle liste e quindi niente eccoci qua eccoci qua ancora una volta vabbè come sempre ragazzi il com'è che si dice il faremo buon viso a cattivo gioco come diceva il nostro presidente Berlusconi e siccome oggi ho la possibilità di portarvi in giro con me venite facciamo un giro faccio vedere è fighissimo sto posto ragazzi cioè è bellissimo mi piace un sacco cioè il posto è stra mega moderno guardate figata poi adesso lo stadio non credo che sia qua perché credo che sia tipo di là sia tipo la dieta in quella zona lì però vabbè diciamo che è questo il posto figata ragazzi mi piace un sacco appena sono arrivato ah no vi stavo dicendo poi vi saluto raga perché sono qua mi stavo dimenticando sta roba vedete il posto è super mega figo no lo stavo dicendo perché sono qua ragazzi sono qua perché sto per girarvi il video per il secondo canale quindi spoilerino per gli amici del primo canale spoiler che gli amici del secondo canale non sanno qua dietro qua c'è uno dei più famosi dietro lì dietro lì dove vi facevo prima c'è uno dei più famosi mercatini dell'usato e quindi vado lì mi sono portato un po' di piccioli 50 euro non è che mi sono portato 500 euro mi sono portato un po' di piccioli e adesso vado lì a vedere se trovo qualcosa di carino mi sono perso raga non so dove sono andato perché lì è chiuso vabbè comunque basta ciao a tutti ragazzi oh forza Milan e basta vado a girare il video sul secondo canale spero che questo video che non è Lollo into the wild ma è Lollo in San Francesco San Donato spero vi sia piaciuto ciao a tutti forza Milan vado a via il kilinter ciao ciao